amici ben trovati sono in studio nuova pausa così riflessiva su quello che è un po che non ne parlavo del mondo del matrimonio e ho avuto modo ultimamente di riflettere un pochino riguardando anche i miei lavori il mio modo di lavorare su quello che è l'approccio che di norma un po tutti quanti tendiamo ad avere nel momento in cui ci adoperiamo per la riuscita del giorno delle nozze dei nostri sposi dei nostri clienti e guardando un po i lavori riguardando anche i lavori del mio passato ma soprattutto guardando i lavori di tanti che fanno questo mestiere mi accorgo spesso di un errore importantissimo che fanno tutti quasi tutti almeno insomma quelli che conosco che è quello di concentrarsi in maniera se vogliamo quasi assoluta su quello che è il soggetto del giorno del matrimonio cioè gli sposi concentrarsi sugli sposi è chiaramente normale e deve essere così diciamo sono loro gli attori principali però molto 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 spesso io mi accorgo di quanto questo sia un limite nel raccontare la giornata è infatti normale farsi cogliere da dall'importanza degli stessi e tralasciare quelli che sono alimenti veramente importanti della giornata degli sposi non tanto al fine di rendere il nostro lavoro più bello quanto più autentico è infatti importantissimo secondo il mio punto di vista ma indiscutibile questo aspetto quello di raccontare la giornata il più il più sentita possibile questo tipo di approccio ci porterà poi ad avere un risultato in post produzione quindi al lavoro finito sicuramente più bello da vedere non tanto in termini estetici quanto in termini di racconto infatti un video che porta come soggetto principale esclusivamente gli sposi o poco e niente di più diventa assolutamente e naturalmente un po' monotono seppur ben realizzato ecco perché ti sto dando questo motivo di riflessione ed ecco perché ho voluto realizzare una serie di contenuti che adesso andremo a vedere che ho preparato qui sulla mia timeline di final cut però per farti riflettere su quante cose veramente sono dietro alla giornata degli sposi e quanto queste cose utilizzate al fine giusto possano regalare un'atmosfera e un racconto sicuramente più interessante fermo restando che quello che vedrai non è un montaggio non ha subito nessun tipo di anzi è un insieme di più elementi presi da matrimoni diversi quindi mi serve esclusivamente per riflettere con te non è stato montato non c'è color in sostanza in sostanza non è assolutamente un lavoro da guardare con occhi critici da un punto di vista di montaggio e di storia più che altro mi serve come spunti di riflessione per parlare con te appunto di questo aspetto il concetto quindi ti voglio passare mi sono fatto anche una serie di appunti no è quello di fare attenzione a non dedicare tutte le attenzioni tutte le riprese ogni volta che premi rec a quello che sta avvenendo agli sposi io so che tu probabilmente stai pensando sì ma io spesso e volentieri prendo anche altro però se tu vai a fare un conto di quelle che sono le clip del tuo matrimonio mettiamo che giri 500 clip di queste 500 io sono sicuro che intorno alle 4 380 400 clip sono dedicati agli sposi e tutto il resto è contorno secondo il mio punto di vista è invece interessante un approccio non dico metà in metà ma vicino a questo non è facile farlo perché non sempre i matrimoni ci regalano situazioni perfette da un punto di vista di scenografie di contenuti di altro genere però è molto probabile che tu comunque ti lasci diciamo sicuramente catturare dalla importanza dalla paura di non avere le giuste immagini degli sposi ci tengo a sottolineare che questo tipo di cosa succede sia quando siamo diciamo da soli quindi abbiamo la paura di non prendere gli sposi e quindi siamo solo da soli e quindi dici cavolo io mi devo dedicare a loro sia quando siamo in due infatti è molto spesso facile che succede che entrambe gli operatori sono contemporaneamente sulla stessa scena sulla stessa diciamo inquadratura addirittura a volte sulla stessa grandezza focale con dispendio di energie e di modalità di lavoro quindi è fondamentale dedicarsi agli sposi ci mancherebbe ma con l'occhio stare sempre a guardare quello che succede intorno ad essi e a volte lasciarli lasciarli per raccogliere delle immagini delle sensazioni delle emozioni che sono negli occhi e nelle espressioni piuttosto che nei gesti di persone vicine non solo ma anche gli oggetti di ambienti che possono raccontare la giornata per com'era quel giorno quindi andiamo a vedere da vicino un po tutte quelle che sono alcune delle riprese che ho estratto da quest'ultima stagione matrimoniale il 2019 ecco tirato fuori degli elementi per riflettere insieme per vedere quanto veramente si possa andare oltre la semplice ripresa continuativa della sposa e dello sposo questo è veramente un elemento di riflessione e se tu andrai a vedere il tuo matrimonio sicuramente te ne accorgerai che gran parte tu prova a contare le riprese e vedrai che gran parte sono degli sposi detto questo andiamo a vederle te le commenterò una una piccola nota perché probabilmente poi quando metterò online questo filmato sicuramente poi mi verrà fatta questa domanda ovvero che color hai utilizzato allora apro subito il mio mac così vi faccio vedere allora io la color che utilizzo è cinema grade quindi è la cinema grade praticamente è il plugin cinema grade che praticamente ho acquistato cercano su internet è un plugin ne ho fatto se non sbaglio anche un video descrittivo di questa di questo plugin molto interessante non è stata fatta minimamente la color sulle clip ma sono semplicemente diciamo inserite ecco e c'è stata messa un appunto un layer come hai visto che va a colorare un po in maniera unanime tutte le clip quindi questa è la prima cosa che ti dico poi è stato utilizzato un su un diverse clip ti potrebbe nascere la domanda e quindi te lo vado a dire in anticipa anticipatamente che ho utilizzato su alcune clip la funzionalità ken burners praticamente che consente di fare delle piccole avvicinamenti di camera o allontanamenti contestualmente ai movimenti di camera poi lo vedrai e perché qualcuno mi potrebbe fare questa domanda e chiaramente le le riprese sono state nella maggior parte dei casi adesso a titolo di esempio perché mi aiutava a raccontare meglio sono state rallentate quindi diciamo non c'è niente di particolare ti ho detto queste piccole note di dettaglio perché magari qualcuno poteva farmi questa domanda evitavo di dover poi rispondere attraverso i commenti e prima di andare a vedere le clip di piccola parentesi ti invito laddove non dovessi averlo fatto se sei interessato a queste tematiche a visionare a prendere in esame film wedding day un corso che ripercorre dalla a alla z tutti quelli che possono essere elementi di riflessione come siccome quello che stiamo facendo adesso ma che comunque ecco ti insegnano a affrontare la giornata del matrimonio dalla a alla z in maniera il più possibile consapevole consapevole dei rischi che si corrono consapevole di come fare le cose nella maniera più professionale possibile in sostanza è un corso che ti aiuta a non commettere errori un corso che deriva da una vita di errori miei passati e ormai diventati bagaglio per non commettere appunto gli stessi errori in futuro e quindi tutta quella che è la mia esperienza di oltre 300 matrimoni e messa diciamo a frutto è stata tramutata in un corso che ti aiuta a sapere come affrontare al meglio tutte le fasi del matrimonio e ad affrontarle con gli strumenti giusti nella modalità giusta in sostanza se ti interessa vai sulla pagina film wedding day che è sul nostro portale promirers.it ti lascio comunque il link del corso qui in descrizione al video quindi detto questo andiamo a vedere quelli che sono gli elementi che possono fare la differenza e che ci aiutano a rendere un po più vario il nostro lavoro in ambito appunto di di ripresa e quindi poi di montaggio annesso bene procederò a farvi vedere quindi quella che è il mio modo di vedere la ripresa di matrimonio anche in contesti poco interessanti molto spesso infatti mi viene detto da soprattutto dagli assistenti eh ma che riprendo fuori non c'è niente perché l'ambiente che circonda il posto dove gli sposi si sposano comunque si preparano è importante anch'esso e quindi molto spesso diciamo sta al centro di roma delle case degli appartamenti con dei palazzi la camera posizionata al posto giusto nel momento giusto con diciamo con andando a ricercare quelli sono elementi naturali delle riprese regalano sicuramente delle cose interessanti come in questo caso che la camera è stata messa su uno sliderino e si è andata a ricercare quello che è l'uscita del sole ok quindi anche un banalissimo come posso dire ingresso di un appartamento cioè di un palazzo può diventare qualcosa di comunque interessante da vedere e aiuta a introdurre un filmato le fedi le fedi possono essere rappresentate e mostrate in tantissimi modi e soprattutto possono essere rimostrate all'interno di quello che è il film perché le stesse rappresentano l'unione quindi le possiamo vedere sulle mani degli sposi le possiamo vedere offerte come in questo caso dalla sposa che si sta preparando le potete sganciare dalla dalla dal cuscinetto e alloggiare come vedremo fra poco in vari modi in varie tipologie di scena di scena basta utilizzare un po di immaginazione in questo caso non volevo staccarle dal cuscinetto non volevo perdere diciamo del tempo in tal senso e quindi ho optato per farle offrire alla sposa un modo interessante per mostrarle le stesse le potete riproporre come vi dicevo in momenti diversi stesso cuscinetto stessa scena o le scarpe le scarpe sono un elemento di decoro secondo me interessante c'è chi dicevano assolutamente le scarpe non le faccio eccetera a me regalano un'idea di come la sposa del gusto della sposa del modo di accessoriare il proprio abito quindi a me piace rappresentarle in diversi modi fermo restando che però amo pensare anche alla raffigurazione delle stesse non banale io vedo spessissimo fotografi e videomaker che prendono le scarpe le mettono sul letto vicino all'oggiarettiera vicino a un elemento un gioiello eccetera e le fotografano o le riprendono io non amo minimamente questo approccio e cerco sempre di rappresentare essendo un oggetto fermo immobile cerco di rappresentarlo al miglior dei modi e questo è uno dei modi che ho trovato quel giorno uno specchio con una modalità un po particolare di costruzione di come era realizzato bastano cose semplici a volte la camera inclinata in maniera particolare riflesso e questo è l'effetto che è venuto non da ricercare un effetto bouquet sulla parte iniziale delle immagini se a questa aggiungiamo una lieve rotazione che va fatta non a mano ma in questo caso avevo il mio sirui monopiede una lieve rotazione di quella che è la testa è ottenuto questo effetto qui abbiamo un altro elemento fondamentale il giorno del matrimonio la sposa si prepara ma è all'interno della casa così come lo sposo ci sono gli invitati che gli sposi hanno desiderato hanno voluto affianco a loro noi presi da tanta enfasi di raccontare il trucco il parrucco e lei e la sposa la sposa la sposa ci perdiamo tutti quelli che sono elementi di preparativi degli invitati che sono invece importantissimi soprattutto in questo caso per esempio la sorella eccetera quindi non per te devi dietro a tre ore di trucco a riprendere sempre la stessa cosa ma ha fatto i primi tre minuti di trucco poi spostatevi andate tranquillamente a riprendere la mamma la sorella le amiche tutto quello che succede le chiacchiere che ci sono perché la sposa se le sta perdendo e un giorno quando rivedrà il film sarà bello rivederle ancora le scarpe nuovamente le andiamo a scoprire in questo caso anche qui slider in modo sicuramente interessante tra l'altro partendo dal nero ci aiuterà da un'altra scena con il nero a legare le due cose è un altro modo per vedere questo accessorio importante per la sposa o questa scena ci tengo particolarmente a farvela vedere perché racchiude in sé oltre che il significato delle fedi di cui abbiamo parlato prima racchiude in sé una doppia visuale per come sono state posizionate le fedi più o meno sulla regola dei terzi e posizionate su questo bellissimo diciamo oggetto di design l'occhio va immediatamente sulle fedi e nessuno si accorge in prima battuta che invece il cambio di fuoco che presto vedrete vi porta sul secondo elemento di decoro che è l'oggetto il bouquet della sposa bouquet che è molto importante ma che tu non avevi visto in prima battuta quindi è un movimento di camera zoom posizionando due elementi di decoro importanti contemporaneamente visualizzati su un frame unico qui ci soffermiamo sui dettagli i dettagli sono importantissimi non riprendiamo le scene sempre nella loro totalità ma andiamo a ricercare quelle che è la bellezza anche del micro dettaglio che è una cosa che a occhio nudo normalmente non vediamo i punti di ripresa sono fondamentali e vanno a descrivere in maniera originale qualcosa che di norma invece è banale come il trucco di un occhio e l'abito l'abito è l'elemento descritto secondo me più banalmente da quasi tutti di norma viene appeso all'armadio della camera e con un'ottica il più possibile grandangolare si cerca di catturarne diciamo la la sua bellezza per me è un modo che è meglio non averlo piuttosto che averlo e quindi diciamo che questo è un esempio di come si può catturare un abito poi ne vedremo altri qui uno spiraglio di una porta piccolissimo uno spiraglio di un centimetro sono andato a prendermi quello che secondo me una immagine molto interessante di vedere l'abito stesso ok piccolo movimento della camera e c'è un qualcosa di interessante che sta avvenendo ancora dettaglio anche le labbra sono importanti sempre in quinta rispetto a qualcosa a qualcuno e poi altri elementi di decoro che possono essere molto importanti per descrivere quello che è la preparazione degli invitati le damigelle molto spesso hanno il braccialetto di fiori e quindi perché siccome vengono sempre preparate o da qualcuno o da un'amica o dalla sposa stessa a volte è importante elementi quali di decoro che vengono portati alla sposa anche essi importanti per descrivere come era accessoriata la sposa e la mamma che si prepara possibilmente vi solleti con l'idea di fare queste cose con un 70 200 perché perché rimanete più distanti possibile dalle scene ottenete un buon effetto di profondità di campo ottenete una riservatezza dell'immagine la mamma magari non si accorge che essa stessa è ripresa e quindi è sicuramente più vera la scena ancora piccoli dettagli del vestito che abbiamo visto prima lo rivediamo ma nei dettagli il bouquet il bouquet può essere rappresentato in tantissimi modi lo vedremo in tantissimi modi alcuni di essi possono essere diciamo come abbiamo visto nel caso delle feri prima sopra un davanzale sopra un cuscino o qualcosa oppure in mano alla sposa anche qui evitiamo di prendere la sposa il bouquet tutto a fuoco tutto perfetto in questo caso se ti sta venendo in mente con che cosa hai realizzato questo questo bouquet diciamo questa focale che focale era un 50 mm f1.8 dava una distanza abbastanza ravvicinata a tutta apertura la chiesa viene raccontata almeno per quello che è il mio modo di fare da più di una scena da più di un elemento decorativo esterno interno una delle riprese che facciamo quasi sempre è raccontare con uno slider l'avvicinamento a quello che è ai sedili dove si sideranno gli sposi e possibilmente questo movimento viene accompagnato in apertura da un effetto vortico quindi la camera si avvicina e l'inquadratura si allarga in questo modo ottieni questo effetto un po di ingrandimento stessa cosa qui vedete la camera si avvicina e la prospettiva cambia piccolo effetto o quello che sono invece degli elementi che spesso e volentieri vengono tralasciati perché perché siamo talmente presi dalla paura di perdere la sposa che arriva che noi spesso e volentieri l'arrivo degli invitati l'attesa degli invitati viene completamente bypassata e persa mentre invece sono elementi di racconto importantissimi che vanno a descrivere le emozioni di quel momento anche delle persone invitate quindi non solo gli sposi rivedranno chi c'era come era vestito con chi si sono salutati quali cose sono state detto eccetera ma vedete le espressioni che fanno riferimento proprio dall'attesa no a qualcosa di interessante guardate anche in questo caso guardare tutti con i telefonini eccetera è qualcosa che lo sposo non vede che la sposa non vede perché è ancora in macchina eccetera quindi è qualcosa che racconta la giornata non ti blocca esclusivamente sull'arrivo della sposa ma che descrive anche in maniera molto elegante questo momento ancora primi piani delle persone che sono alla cerimonia rivediamo di nuovo le fedi anche qui ci tengo a sottolineare ho messo queste immagini perché ti fa capire che le fedi non vanno inquadrate dritte per dritte al modo più scontato che abbiamo no cerchiamo di raccontarle secondo un qualcosa che inquinta in questo caso è come se noi fossimo a fianco alla testimone che le tiene ferme con sé il libretto è un altro degli elementi che gli sposi hanno desiderato curato realizzato a volte loro stessi e quindi è un altro degli elementi che non rivedranno mai più nella vita quindi andarlo a raccontare a far vedere è molto importante prima vi ho parlato degli elementi decorativi della chiesa la chiesa può essere raccontata soprattutto per quanto riguarda o dettagli degli oggetti contenuti in essa oppure nelle prospettive nella costruzione e per fare questo ci aiuteremo con dei movimenti che non vanno fatti a mano ma vanno fatti con slider o con cavalletti teste fluide eccetera che vanno a descrivere come in questo caso le prospettive dal basso verso l'alto e allora se fatti professionalmente sono sicuramente interessanti ancora dei controluce che raccontano in maniera più poetica ecco in questo caso vediamo invece lo stare tra le persone lo stare tra le persone raccontare quei momenti con come posso dire con partecipazione ok ancora il telefonino il telefonino ormai è un elemento importantissimo all'interno del matrimonio ed ecco questo esempio ci fa capire quanto lo stesso è praticamente ormai abitudine consueti di tutti gli invitati quindi perché non cogliamo diciamo il vantaggio dello stesso e andiamo a inquadrare ciò che inquadrano è un modo di raccontare anch'esso in questo caso mi soffermo a farvi vedere quello che è un elemento naturale il sole nonché il paesaggio nonché le foglie gli alberi eccetera ci sono tantissimi casi in cui le piante e diciamo lo sfocato possono evitare a regolare degli effetti particolarissimi come in questo caso un campanile che non vedevamo ok guardate che esce fuori semplicemente con un cambio di fuoco ok questi elementi sono importanti vanno a descrivere gli ambienti lo fanno in maniera cinematografica teatrale e sono veramente affascinanti raccontano in maniera interessante tutto lo scenario che c'era quel giorno la luce il compimento di un quadro che normalmente altrimenti sarebbe scontato ancora effetto cortico quindi avvicinamento alle scarpe e le stesse praticamente invece subiscono questa modellazione della focale come vedete i modi per raccontare un paio di scarpe semplice oggetto possono essere tantissimi utilizzate la vostra immaginazione per andare oltre quello che è la normale abitudine di chiunque o comunque del video maker direttante ok una sveglia perché una sveglia può diventare interessante perché se la stessa e viene diciamo l'inquadratura della stessa viene ripetuta per più volte una volta sono le 14 e 30 poi diventeranno le 15 e 30 alle 16 e 30 e ti renderai conto del passare del tempo e che cosa stava avvenendo in quel momento all'interno di quella cerimonia di quelle preparazioni in questo caso ecco vi ricordate quando ho parlato dei vari modi dei vari diciamo posti dove poter posare le ferie questo è un quadro un quadro futuristico un quadro moderno ho visto questo spuntone e ho posizionato lì sono andato a cercare con un'angolazione particolare della camera questa composizione anche qui immaginazione la luce la luce il sole siamo in estate ci aiuta tantissimo a creare effetti come questi perché non sfruttare i quadri naturali di una finestra guardate che idea il papà il papà è un elemento fondamentale durante la giornata della sposa prima di tutto perché il papà per la sposa sempre quasi sempre un elemento di vanto addirittura e quindi lo stesso magari senza neanche andar glielo a chiedere si deve preparare e possiamo rubare dei momenti intimi anche dello stesso del papà che la sposa avrà piacere a rivedere o guardate come una scena può essere descritta questi sono elementi che spiego molto spesso molto bene anche all'interno del corso film wedding day di cui vi parlavo prima le scene vanno sempre descritte almeno da due almeno da due filmati cioè da due inquadrature è molto importante perché un'inquadratura da ferma comunque diventa più cinematografica più movimentata guardate da così e così ti fa capire perfettamente quello che sta succedendo senza perdere il senso diciamo della perfezione della ripresa qui dettaglio e che cosa c'è un dettaglio guardate come non sto guardando la sposa che prende i suoi orecchini ma sto guardando come erano fatti gli orecchini siete d'accordo su questo elemento di differenziazione ho visto l'orecchino e poi vedo un gesto ok non sto guardando la sposa ancora poi vi farò vedere un altro esempio ancora sempre ritornando alla chiesa sono un po in ordine casuale sempre guardando la chiesa elementi di decoro come in questo caso sono molto importanti e vi aiuteranno a intervallare le immagini e non renderle monotene sempre con gli stessi contenuti come in quest'altro caso attenzione quando fate delle riprese della chiesa essere precisi meticolosi in quelle che sono le simmetrie gli orizzonti eccetera o gli specchi vedremo adesso fra poco altre immagini gli specchi sono importantissimi ci aiutano a raccontare con gli occhi riflessi di qualcuno fatto il poeta però il concetto è che guardate come un taglio del genere possa essere molto più interessante che metterci davanti all'armadio e riprendere la sposa che va a carezzare il suo vestito se la stessa immagine poi viene intervallata come in questo caso mi farò vedere fra poco da un elemento invece in primo piano un dettaglio la sposa che si allunga per toccare l'abito vedete come la scena ha preso forma ok in maniera non assolutamente non banale ancora i quadri delle finestre il sole le ombre che in estate non mancano di certo che altro ci ho messo vediamo un po di nuovo bouquet anche in questo caso una finestra con del vento ci aiuta a far vedere un movimento e ancora guardate le fedi prese questa volta e messe su un oggetto d'arredo come questo con ricerca della profondità di campo ridotta come in questo caso e poi dettaglio della stessa ok vedete come possono essere raccontate in maniera diversa un esempio ancora di bouquet un po come abbiamo visto prima il riso il riso all'uscita della chiesa mentre che voi aspettate che i fotografi fanno le foto con nonna zia mamma papà eccetera potete tranquillamente raccontare la preparazione al lancio del riso quindi andatevi a prendere tutto tutte le bambine che cercano che prendono che portano il cesto eccetera è molto interessante o qui si passa a qualche immagine di racconto degli sposi dove gli sposi però non sono dominanti ma il paesaggio è più importante di loro questo tipo di ripresa anch'essa viene descritta e questa metodica viene descritta ampliamente nel corso film wedding day di cui vi ho parlato ma in tutti i casi guardate come la camera inquinta nascosta dietro un albero può raccontare degli sposi ok quasi parte di un quadro e qui invece vado a raccontarvi ancora una volta la scena composita la mano in tasca e poi dettagli della stessa o vi ricordate quando ho parlato del raccontare un palazzo guardate come un androne delle scale sebbene prospettivato permettetemi questo schifosissimo termine può essere interessante anche qui ok gli specchi prima abbiamo parlato di specchi altro modo per sfruttarli in questo caso potete sfruttare e utilizzare uno specchio e l'obiettivo poggiato sullo specchio stesso uno specchietto basta uno specchietto da trucco è una scena che attualmente normalmente sarebbe banale può essere raccontata ancora invitati che aspettano che guardano bolle di sapone questo è sempre prima dell'uscita degli sposi e qui vediamo come elementi di momenti in cui il fotografo come posso dire sta preparando il suo setup possono diventare elementi di racconto che non tengono in considerazione gli sposi ma tengono in considerazione il backstage di quello che c'era in quella giornata del posto ancora qui mi sono dedicata alla natura in sostanza io spesso e volentieri arrivo e anche di questo parlo esistivamente e racconto perché per come c'era nel corso comunque arrivare prima al giorno ai preparativi della sposa soprattutto aiuta a regalarci dei contenuti in extra molto importanti come in questo caso di nuovo composizioni con ombre luci e qui addirittura mi sono andato a cercare questo può accadere nelle location dove si prepara la sposa che magari è all'interno di un agriturismo piuttosto che all'interno di una villa c'è la camera quindi in hotel eccetera c'era la preparazione della torta nel frattempo che aspettavo le lunghe attese della preparazione mi sono andato in giro per l'hotel in ricercare quelle che secondo me erano cose interessanti così come la preparazione della torta pensate quanto è importante per per gli sposi un'immagine del genere non importante ma particolare no da vedere all'interno del loro filmato l'abito non sempre deve essere messo sull'armadio ma può essere esposto in questo modo e noi ci abbiamo tutto il tempo di farlo ancora modalità di ripresa del bouquet modalità di ripresa di quelli che sono i dettagli poi i volti particolari degli ospiti andatevi a spizzare a cercare quelle che sono elementi veramente interessanti del mondo del matrimonio no cioè quindi volti particolari e ancora il bouquet in questo formato il gioiello il gioiello che porta la sposa è molto importante non descrivere sempre la sposa nella sua totalità di nuovo lo racconto di nuovo vedete come un elemento di decoro possa raccontare sì la sposa ma in maniera assolutamente più particolare e il papà ancora sempre rubato da dietro una porta che non si accorge del fatto che lui sta lì a guardare la figlia e quanto è bella la stessa le mani delle spose se ben fatte se comunque descrivono possono essere interessanti durante le fasi dei preparativi alcuni elementi di decoro della stanza ok alcuni oggetti ed ecco ancora una modalità di visualizzazione di ripresa dell'abito da sposa che insieme alle scarpe vedete anche qui doppia ripresa da lontano e da vicino che regala un dettaglio che è di quello che praticamente stiamo vedendo ok la sposa è sempre indaffarata sempre col telefonino e quindi raccontiamola delle amiche che danno la mano insomma tutti elementi guardate quanti elementi quanti dettagli di norma non facciamo caso a cui di norma non facciamo caso ecco il braccialetto di cui parlavo prima anche questo preso da due punti di ripresa diversa la mica che sistema il vestito anche qui spesso e volentieri vedo fare questa ripresa in maniera veramente banale invece guardate come un degli elementi rubati possono sempre essere molto interessanti ancora riprese della chiesa anche qui in prospettiva andando a ricercare sicuramente un effetto di luce particolare le amiche che arrivano con la macchina della sposa amici che parlano sono tutti elementi ecco diciamo non consueti così come il momento in cui gli sposi sono usciti da quel momento in poi ci saranno i saluti ecco questi sono i momenti più belli da rivedere e che vanno a descrivere a volte potete tranquillamente che fino a quel momento la sposa è stata quasi la protagonista andate a prendere le amiche andate a vedere i volti le persone cosa gli dicono che cosa fanno e nell'attesa gli ospiti la nonna che parla con un'amica guardate la sposa è là dietro ma a me non mi interessa più perché l'ho ripresa anche troppo quindi mi vado a prendere persone per loro importanti vedete vedete e di nuovo il bouquet questo durante la fase di ritratti di nuovo colorazione e creazioni di effetti con luce ombre anche qui vedete come i quadri che compone la luce i dettagli ancora i dettagli dello sposo così come prima abbiamo visto i dettagli della sposa con il solitario e ancora quando diciamo diciamo la sposa si sta preparando ripeto uscite dalla casa uscite da dalla stanza dove si sta preparando l'avete ripresa in tutte le salse andate in giro guardate come una scena di racconti come si stava preparando la sala può essere un racconto così come le amiche che portano il vestito e ancora amiche che fanno comunella la mamma che si prepara un po come prima abbiamo visto elementi di decoro come questo che assolutamente banali se viste con un occhio non diciamo ricercatezza con inquadratura particolare ma una camera rivolta verso una cosa del genere con una composizione di luce una esposizione luce interessante può raccontare un momento interessante un particolare interessante anche qui vi ricordate quando la sposa ha preso i gioielli ecco gli orecchini guardate come la scena prende il l'orecchino e lo stesso lo indossa due gesti raccontano un momento intimo e ancora anche qui stesso discorso fatto prima stesso discorso fatto prima stesso discorso ancora del bouquet qui uno specchio uno specchio può raccontare gli sposi completamente in maniera non consueta ok siete d'accordo quindi gli sposi non vanno così come le cose non vanno raccontate banalmente ricercate in modo più interessante la pioggia non sempre è un problema anzi a volte è poetica molto poetica quindi potete tranquillamente utilizzarla per raccontare la giornata una giornata uggiosa questo matrimonio fatto a febbraio gli oggetti che indosserà la sposa in questo caso il profumo sono tutti elementi che descrivono quello che sta vivendo la sposa due ombrelli attaccati a una ringhiera ma descrivono quel momento è un fiore in sostanza credo di averti passato veramente in maniera esaustiva il concetto forse troppo anzi il concetto che è la base di una ricercatezza di quello che si fa primo secondo e soprattutto di raccontare tanto di più rispetto a sposo barra sposa e questo durante tutta la giornata non solo durante i preparativi mi sono focalizzato perché altro sui preparativi ma può essere fatto tranquillamente in qualsiasi momento della giornata compresi i ritratti non è detto che siccome state facendo i ritratti degli sposi cioè le foto di rito quelle dopo la cerimonia non è detto che dovete per forza inquadrare solamente gli sposi potete tranquillamente inquadrare un bel paesaggio dove state in quel momento un fiore un qualcosa un'ombra in sostanza distaccatevi da quello che è l'elemento sposo barra sposa spero che il video ti sia piaciuto questi questo è uno degli argomenti trattati in maniera sicuramente esaustiva all'interno del corso film wedding day che ti rinnovo di nuovo perché se ti piace questo modo il mio di esporre e se ti piace diciamo l'idea di apprendere trucchi e segreti come questo all'interno di film wedding day trovi tanto tanto di più quindi se ti fa piacere dai un'occhiata alla pagina che trovi sul sito promitores.it sottravoce corsi film wedding day online è un corso online composto da più di 50 lezioni video in cui ogni video ti insegna un qualcosa in più che può magari esserti sfuggito oppure se sei agli inizi ti dà quella marcia in più che potrai mettere in piedi in piedi in campo nel momento in cui andrai a fare il tuo primo o secondo o terzo matrimonio per il momento è tutto io spero di averti dato motivo di riflessione spero che la cosa ti sia piaciuta e se ti è piaciuta chiaramente lasciami un like mi fa molto piacere così come è importante per me avere anche uno scambio un commento un tuo commento il tuo punto di vista su quelle che sono state le osservazioni che ti ho sollevato ci vediamo al prossimo video buon proseguimento ciao ciao